Mancano uomini e mezzi a Vigili del Fuoco e Polizia di Stato. Il salario ormai bloccato da 4 anni lo sarà anche per il 2014, secondo la nuova legge di stabilità. Il turnover viene costantemente bloccato e tutta una serie di deficit cronici sono ancora quelli che i due corpi denunciano da tanto tempo. E questa mattina sotto la prefettura, anche a Brescia, i rappresentanti sindacali hanno manifestato le loro ragioni attraverso un presidio. Brescia conta circa sui 400 poliziotti, dovrebbe averne molti di più. Essendo anche una provincia metropolitana. Esattamente, provincia, come ben sapete, è molto vasta e quindi scarseggiamo di uomini. Anche i mezzi in dotazione scarseggiano, come ad esempio le partuglie delle volanti. Circa 21 autovetture, se comprendiamo anche i commissariati, ma sono su strada effettivamente, sono circa il 50%. Non ci sono i fondi per poter riparare, anche le piccole riparazioni giornaliere, insomma. Tutti elementi che comportano una minor sicurezza sul territorio. Vi sono dei reati in aumento in questo periodo che vi preoccupano maggiormente e quali non riuscite a far fronte? Lo vediamo tutti i giorni, la microcriminalità è sempre in aumento. Appunto, dicevo, per stamattina l'ultima notizia della donna aggredita, rapinata e violentata nella provincia di Brescia. Ultima notizia di stamattina. E' una delle cose che vi crea anche frustrazione personale? E' preoccupante, molto preoccupante, quindi sì, se non riusciamo a garantire la sicurezza è anche un fattore personale. Anche per quanto riguarda i vigili del fuoco, la situazione non cambia di molto. Il problema di capi squadra, di qualificati che c'è al comando di Brescia, continua ad esserci, continua a rinnovarsi perché chiaramente l'ulteriore blocco del turnover e delle assunzioni non porta il ricambio e non permette ai vigili di fare questo passaggio di qualifica, a cercare di colmare questo buco che ci portiamo dietro. Quanti ne mancano qua a Brescia? Al momento continuano a mancare circa una sessantina di qualificati, di capi squadra che sono necessari chiaramente per completare l'equipaggio di soccorso e continua ad essere comandato il vigile coordinatore per le esigenze servizio a sostituire la figura del capo squadra. Il vigile coordinatore che non ha fatto il corso che fa il capo squadra. Senza una qualificazione adeguata? Senza una formazione adeguata e assumendosi delle responsabilità che non può assumersi. Anche i vigili del fuoco richiedono maggiore disponibilità per poter intervenire sui mezzi che necessitano manutenzione o addirittura mezzi nuovi in sostituzione di quelli troppo obsoleti. Insomma la richiesta è quella di rivedere completamente e finanziare un piano nazionale della sicurezza degno di tal nome.